Nelly Carlucci ha annunciato i concorrenti di Ballando con le stelle, dichiarando che due di essi sono molto forti. Ecco di chi si tratta. Mancano poche settimane all'inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle che avverrà il prossimo 28 settembre. In anticipo rispetto agli altri anni, la trasmissione andrà avanti per 12 puntate fino a dicembre. Durerà più del solito e per questo Nelly Carlucci ha dovuto cercare più coppie, e ha ammesso che è stato un lavoro molto complesso. Ora finalmente la padrona di casa ha annunciato i concorrenti della trasmissione, e ha anche dichiarato che due di loro sono molto forti. Ecco che cosa ha detto Millie Carlucci. I concorrenti di Ballando con le stelle annunciati da Millie Carlucci. Dopo settimane di indiscrezioni, conferme e smentite, finalmente è stato annunciato il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Millie Carlucci ha infatti dichiarato. Ci siamo davvero. Abbiamo chiuso il cast della diciannovesima edizione di Ballando con le stelle. È tutto vero, adesso lo vedrete in onda. Vedrete i promo con i nomi. Però c'è una piccola sorpresa. Nel promo non ci sarà proprio tutto il cast. Insomma, la conduttrice ha annunciato i nomi di dieci concorrenti della diciannovesima edizione di Ballando con le stelle. Ma ne ha lasciati segreti altri due, preannunciando però che sono molto forti. Sul motivo di questa scelta ha detto. Vogliamo lasciare una piccola sorpresa che vi sveleremo in un secondo tempo. Quando? Mica lo potete sapere adesso. Ci sono due nomi che non vi dico. Sono chiusi e impacchettati. Non posso dirlo ora. Ve li dirò più avanti. Dai. Giochiamo un po'. Sono nomi importanti e molto carini. Per questo ve lo voglio dire. Giochiamo un po'. Dunque Millie Carlucci, ha lasciato molta segretezza sugli ultimi due concorrenti di Ballando, ma quelli noti sembrano già piacere molto. Si tratta del comico Francesco Paolantonio, della conduttrice e attrice Bianca Guaccero, della cantante Nina Zilli, del conduttore Massimiliano Ossini, della campionessa di nuoto Federica Pellegrini, dell'ex velina Mora Federica Nargi, dell'economista Alan Friedman, dei cantanti, cugini di campagna, del conduttore e attore Luca Barbareschi, dell'ex opinionista del Grande Fratello e dell'Isola dei famosi Sonia Bruganelli e dell'attore turco Furkan Palali. In giuria rimangono confermati Caroline Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni, mentre fra i commentatori ci saranno sempre Alberto Matano, Rossella Erra e Simone Di Pasquale. Basterà dunque attendere ancora qualche settimana prima di scoprire anche i nomi degli ultimi due fortissimi concorrenti di Ballando con le stelle.